Arrivano due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Ventimiglia di Sicilia, comune situato in provincia di Palermo e Porto Empedocle, nell'Egrigentino. Le due nuove zone rosse sono state disposte tramite un'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci. Il governatore siciliano ha adottato il provvedimento su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle ASP, a seguito dell'aumento di casi positivi al Covid. Le misure restrittive scatteranno da giovedì 1 aprile e resteranno in vigore per due settimane fino a mercoledì 14 aprile. Prorogate anche fino al 6 aprile le zone rosse a Scicli, in provincia di Ragusa, e Regalbuto, nell'Ennese, la cui scadenza era fissata per oggi.